Presento l'XT per Atomic, è uno sci praticamente con 16 metri e mezzo a raggio di curva nella misura 182, quindi è un po' un mezzo ibrido come lunghezza e come sancratura, è uno sci che è adatto a un sciatore esperto, bellissimo nel sciare nel raggio corto pur essendo 182, ancora più bello nel raggio lungo perché esprime tutta la sua dolcezza nel raggio di curva, però è anche aggressivo nello stesso tempo. E' uno sci che chiedono in parecchi, in particolare quelli che siano veramente a alto livello. Sci che permette una facile evoluzione dal livello argento al livello oro perché ha un'entrata curva molto semplice e molto efficace, soprattutto in un raggio corto. Su un arco ampio pecca un pochino di stabilità in quanto la velocità non premia il raggio. Atomic XT 175, ho trovato uno sci molto manangevole, molto facile, molto facile l'inserimento in curva. Atomic Red Star, ho provato stamattina sul durissimo, è uno sci abbastanza facile in entrata curva e risponde anche abbastanza bene. A fine curva è facile a svincolare, però ad alte velocità e sugli archi un po' più ampi tende a vibrare in punta. Però tutto sommato è un ottimo prodotto da Atomic anche quest'anno e consigliato per settori di alto livello. L'Atomic è uno sci veramente bello in arco di curva medio e ampio, con questo tipo di neve dura, abbastanza dura, risponde bene ai comandi. Un pochino più difficile l'ho trovato sull'arco stretto e a velocità un pochino più basse. Atomic Red Star XT, è uno sci che lo consiglio a tutti perché è facile sia in ingresso che in uscita curva, nelle curve strette e nelle curve ampie. La cosa che mi ha colpito di più è stata proprio l'uscita, è una buona risposta e è veramente carino come sci. Atomic XT 175 è uno sci che è notevolmente migliorato rispetto all'anno scorso, è veramente a livello di qualità, uno sci un pochino superiore rispetto al modello dell'altro anno e uno sci divertente, testato su neve dura ma non così dura di prima mattina alle 8 ma una neve che tendenzialmente è una neve diciamo compatta primaverile quindi ha una buona tenuta, è facile, è divertente per qualsiasi tipo di sciatore che abbia già un livello di esperienza, possiamo considerarlo un livello oro. Grazie a tutti!